In questo nuovo video io sono Samu3089 e io sono il papi di Samu e noi insieme siamo il P.3089 Allora qua siamo qua in piazza a farvi vedere le cose più importanti di Carpi Stiamo andando al teatro comunale di mia sorella ma comunque vi faccio vedere la cattedrale Che è quella là, la cattedrale, qua c'è il castello in cui c'è la ludoteca Poi o là? Andremo là Adesso andiamo a cominciare A Silvana Che è mia sorella Fa le prove al teatro comunale per il saggio di domani Vediamo un po' se riusciamo a entrare Lo so ragazzi ma noi stiamo aprendo questo nuovo canale insieme Ma ragazzi la cosa che non aspettiamo di un canale che è Top Secret Noi fingeremo per un po' di tempo Che questo sia un video messo in privato Ma quando vuoi poi lo vedrete vai Vabbè Ehm La ce le dico E questo è Carpi Una metà di Carpi forse a dei martiri In versione per me dire Oh mamma mia Mio padre è uscito dal barbiere se lo notate nella precedenza Oh guardate ci sono i manifesti delle colde ballette Ovviamente la cosa di danza di mia sorella Ragazzi non mi vedrete molto bene perché c'è moltissimo sole Questo video sarà un po' messo male ma va bene registreremo altri molto più belli Quindi è molto bene che ascoltate le parole così imparate a conoscerci ma anche la visione deve essere ben fatta Quello di me è il cartellone Vabbè siamo tutti passati Adesso stiamo entrando Nel teatro Ma stiamo cercando di entrare In teatro Sì perché l'entrata sarebbe dall'altra parte Ma dov'è dall'altra parte Allora facciamo il giro papà No ma Ma secondo me papi C'è Forse non ci vanno entrare Perché si dovrebbe entrare da queste porte No Ah quello quando tu sei Aspetta l'aspettatore Ehm Ecco guarda entrata Ecco il ballette Domani Ore 20 e 30 Sì 20 e 30 all'ottentrano Genito Ma guardate così presto Che poi finissi a mezzanotte Ecco se ci siamo Ho provato un barco Ok mi metto più di qui Beh ragazzi Vi faccio adesso Do la linea mio padre Adesso dobbiamo stare un po' in silenzio Perché se entriamo Non possiamo fare baccani Infatti non possiamo urlare Come stiamo facendo ora Perché sto gritando Come Vabbè stiamo calentando Stiamo calentando Oddio mamma Vi faccio vedere una cosa che Cosa papi Ragazzi Ragazzi Guardatemi Eccomi Ma c'è buio ragazzi Ragazzi io devo stare qua per forza Perché se non riesco a registrare un po' di là Oddio Perché sta parlando ora Le prove perché là c'è troppo buio Come avete visto Ragazzi questo video verrà un po' male Oddio Non posso registrare un po' di là c'è troppo buio Non posso registrare qui dentro Guarda un po' di là c'è troppo buio Aspetta Guarda un po' di là c'è troppo buio E' un po' di là c'è troppo buio E' un po' di là c'è troppo buio E' un po' di là c'è troppo buio Raga Raga non mi potete vedere Infatti io vado E' un sintomo di Papi Sono dall'entrata Perché Se no non mi vedono E devo registrare Ragazzi adesso Tra poco mi vedete Aspetta E' un po' di là c'è troppo buio E' un po' di là c'è troppo buio Non riesco a registrare Perciò devo registrare qua Devo fare presto Perché Non posso Ufficinarmi per vedere le cose Quindi E' così E' così E' così Perché E' così perché C'è un video 24 Per inizio Almeno facciamo di 9 minuti Questo video Chissà però non voglio E' un video Tutto a buio Non sarebbe corretto Ma che fio Ma che fio Adesso Aspetta Guarda E' un minuto E' un minuto Mimmi prova ad entrare C'è un luce solo tutto accoscenico Raga io non riesco a registrare Raga non riesco a registrare Raga sono fregata E' un minuto 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 Allora Allora Stanno entrando il gruppo Prima di mia sorella Credo Saranno le proprie Dello spettacolo dei grammi Ma ragazzi Voi non mi vedete Non mi sentite E' un minuto 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 Ma ragazzi Ma perché Questo video Vi risulterà male Ma è il primo E' per noi il primo Io sono sbagliato Ma proprio quando registro Non faccio sempre sbagliare Perchè Mannaggia Ma oddio Perché Abbiamo capito Abbiamo capito Ma allora Bravo Bravo L'ho capito E' un minuto Sì Papi Lo devo registrare Non mi vedono Papi Papi Non mi vedono E non mi sentono Ma guarda C'è la signora E fa Faccio Avanti e indietro E' vero Devo registrare Ma no Vabbè Io continuo a registrare C'è Anche se non mi vedono Vabbè Mi sentono adesso Raga Adesso Però adesso Ecco Guarda è mia sorella Sì Il prossimo gruppo è mia sorella Va bene Ma perché Perchè ci sono Di due signori C'è un signore In calza maglia E una coltosù Che sembra un fiore Appassito Credo C'è Ma ci sono le madri Di diversi Alunni Perchè vanno A vederle In teatro E io mi stavo soffocando Dio dell'arte Mannaggia Ma proprio Un bravo Sanno Poi sentirete le urla Di quelli che Fanno un po' che no Hai visto perché Siamo in teatro E praticamente in diversi video Che registrerò Poi io vi porterò dappertutto Raga Anche in posti In cui ci sono le tenebre Cioè In cui non vedo Però non posso dare Però posso andare a vedere Le mie relazioni Ma non me le da Quindi ragazzi Sono 9 minuti e 14 Che registriamo Ma almeno facciamo le 24 Forse Anche di qualche 20 minuti Di registrazione Facciamo perché questo video È il primo Però Non ha maggiormente il video Non mi avessi sentito E così via Comunque Ragazzi Mio padre Sto parlo solamente io Perché Prima cosa Non vuoi essere egoista Il mio padre è bloccato Là E questa cosa Non mi sono andando a me Però Perché me ne vuoi andare E registrare Capito? Capito? Io voglio registrare Voglio farvi vedere Tarte di Samu 3089 Ed Alessandro 3089 Diale 3089 Noi siamo il P.3089 Il Ciu P.3089 Se noi dobbiamo registrare la nostra vita Dobbiamo essere Bra Beh adesso Andiamo in un pochino Per vedere E torno su Ehm Oddio Oddio Ehm Allora Adesso mi potete vedere Perché ho detto che ho quasi 10 minuti Diciamo Ehm 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 Muove Videoregist Ero 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 Lo vedo troppo sotto all'idea quindi ragazzi Sì Eh Eh Le salutiamo in un saluto finale Papi Dobbiamo fare il saluto finale Ciao ragazzi Ciao ragazzi Mettete like a questo video Iscrivetevi al canale Ehm Al prossimo video Ciao